... molto bene, di qualità non si sbaglia un passaggio di due metri vanno arrivare, vanno arrivare vanno arrivare cambio 2 metri dietro al giallo Casino, il giocatore arriva vicino al giallo per fare lo scambio siamo pronti? è veloce il cambio è veloce il cambio lo scambio mettiamo palla in mano all'esterno doppio scambio tollo del piede faccio vedere e cambio passo recupero vi è costato vanno arrivare vanno arrivare vanno arrivare vanno arrivare vanno pari Grazie